Nella versione 4.0 del nostro plugin AJAX Product Filter abbiamo aggiunto diverse opzioni, diverse chicche per quanto riguarda tutti gli utenti che filtrano i prodotti all'interno di WooCommerce da mobile. Per settimane e settimane abbiamo visto come fanno i più grandi store al mondo a utilizzare i filtri da mobile e da questo abbiamo preso spunto e abbiamo realizzato un'interfaccia utente 100% mobile friendly realizzando di fatto l'unico plugin sul mercato che offre la possibilità agli utenti di filtrare i prodotti attraverso una modale da mobile. Voglio farti vedere in che maniera funziona ma prima di farlo ovviamente clicca su mi piace all'interno di questo video iscriviti al canale e clicca sulla campanella così potremo raggiungerti più facilmente ogni qualvolta andremo a inserire un nuovo contenuto all'interno di questo canale andiamo a vedere in che maniera funziona. Ok qui siamo all'interno di un'installazione che ho già usato per dei precedenti video tutorial dove ti ho fatto vedere in che maniera si inseriscono i filtri, quali filtri puoi inserire nella sidebar eccetera. In questo video tutorial invece voglio mostrarti in che maniera funzionano questi filtri non da desktop ma da mobile. Ok questa pagina, questa struttura di pagina che è una pagina di WooCommerce è impostata con una sidebar a sinistra. Cosa succede? Che il momento in cui andrò a visualizzare questa pagina all'interno di un dispositivo mobile tutto verrà compresso e quindi io vedrò prima questo blocco, quindi prima la sidebar e poi questo blocco. Ti faccio vedere semplicemente andando a fare ispezione elemento, il momento in cui vado nella parte mobile come vedi la sidebar compare immediatamente. Non solo compare immediatamente ma al momento in cui io provo a fare un filtro non mi rendo conto neanche di quello che succede. Infatti se clicco su L viene ricaricata la pagina ma io rimango qua. In realtà dovrei poi scrollare e andare a guardare i prodotti che ho filtrato. Poi dovrei tornare di nuovo su, andare a decidere il filtro, per esempio decido questo filtro, poi scrollo, vado di nuovo giù e vado a vedere quali sono i prodotti che ho filtrato. Questa situazione è la situazione normale che succede in WooCommerce ma per quanto riguarda l'usabilità è abbastanza scomoda. Infatti chi si occupa di user experience all'interno della nostra azienda ha cercato una soluzione performante e per farlo ovviamente ha fatto degli studi su quelli che sono i più grandi store al mondo e come utilizzano loro i filtri eccetera. E ovviamente abbiamo inserito questa modifica all'interno di Ajax Product Filter ma ti faccio vedere in che maniera funziona. Ovviamente se questa sidebar io la mettessi sulla destra piuttosto che sulla sinistra, quello che succederebbe è avere immediatamente i prodotti e poi alla fine dei prodotti, quindi dopo che ho scrollato tutti i prodotti, vedere la sidebar. Guarda cambio la sidebar e ti mostro come. Ok ho spostato la sidebar a destra, quindi sono andato semplicemente su personalizza nella sezione WooCommerce di Proteo che è il tema che sto utilizzando per questo tutorial e ho inserito la sidebar a destra. Quindi adesso la sidebar compare da questo lato e ti faccio vedere in che maniera viene visualizzato con un comportamento standard da mobile. Quindi vado qua, sono su mobile, come vedi, come dicevo prima, qui ci sono prima i prodotti, dopo i prodotti ci sono i filtri. Quindi se io devo applicare un filtro, magari devo applicare un filtro per marchio, vado sul filtro del marchio, mi ricarica qua la pagina, non capisco dove sono, devo tornare di nuovo su e capire che questi sono i prodotti filtrati, ma non vedo più quali sono i prodotti filtrati, devo scendere giù, insomma, è un'esperienza utente non proprio ottimale. Ok? Ti dicevo che noi abbiamo invece inserito all'interno di Ajax Product Filter una soluzione perfetta praticamente e ti faccio vedere qual è. Torniamo nella versione desktop, andiamo sulla bacheca e andiamo nelle impostazioni generali del plugin, quindi su YTH Ajax Product Filter. Andiamo sulle impostazioni generali e andiamo ad attivare l'opzione che ci interessa, che è questa mostra come modale sul dispositivo mobile. Ci basterà semplicemente switchare da no a sì, quindi un click, e salvare le nostre modifiche. Torniamo sulla pagina di prima. Leviamo i filtri che avevamo inserito poco fa, così compaiono tutti i prodotti. Ok, va benissimo così. E vediamo da mobile cosa sta succedendo. Questa è la versione desktop, quindi non è cambiato nulla. Adesso se andiamo da mobile, notiamo che ci sono i prodotti e se scrollo non ci sono più i filtri, perché i filtri poco fa erano qua sotto. Non ci sono più, ma c'è questo pulsante con scritto filtri. Il momento in cui io premo sul pulsante, tutti i filtri compariranno in una modale, con un'esperienza utente perfetta. Guarda, clicco qui, compaiono i filtri nella modale. Mi basterà scrollare a vedere quale filtro voglio applicare. Voglio applicare il filtro colore. Clicco qua, clicco sul blu. Il momento in cui ho deciso quale filtro voglio applicare per visualizzare i miei prodotti, mostra i risultati, quindi clicco qua e mi ricarica la pagina e vado direttamente ai prodotti. Non vedo più i filtri, ma capisco che questi sono i miei prodotti filtrati. Se voglio cambiare il filtro, mi basterà di nuovo cliccare qua sopra. Come vedi è molto semplice, molto intuitivo. E andare a inserire i filtri che più mi interessano. Un'esperienza utente decisamente migliorata rispetto a prima. A questo punto però voglio farti vedere come funziona la stessa cosa su una pagina che andiamo a creare noi. Nel senso che queste sono delle pagine di WooCommerce, ma noi possiamo anche creare delle pagine all'interno del nostro shop con i blocchi Gutenberg. Quindi possiamo, come avrei visto nei video tutorial precedenti, utilizzare i blocchi Gutenberg per creare la nostra pagina e per inserire i filtri con Ajax Product Filter. Quindi andiamo a creare una nuova pagina. Aggiungi pagina. Chiamo questa pagina prova filtri. E andiamo a inserire il nostro blocco Gutenberg dei prodotti. Quindi clicco su colonne, quindi inseriamo questo blocco, inseriamo due colonne. Ok, così nella parte sinistra inserirò i filtri e nella parte destra inserirò i prodotti. Quindi inserisco il blocco che mi interessa, quello dei prodotti. Prodotti per categoria, va benissimo questo. Inserisco la categoria che mi interessa, che è questa. Fatto. Benissimo. E quindi qua già ho i prodotti di categoria e vado a inserire qua invece il blocco con i filtri. Quindi cerco Preset ed eccolo qua. Filter Preset. Ok. E quindi qua io ho il filtro con i Preset e vado a scegliere il Preset che mi interessa. Che è su questa installazione è Prova Preset con Filtro Size. Ok, si chiama in questo modo. Quindi pubblichiamo questa pagina. E l'andiamo a vedere e vediamo che cosa succede. Ok, questa è la pagina che abbiamo appena pubblicato. Funziona in questo modo. Qua ci sono i filtri. Qua ci sono i prodotti. Ma se vado da Mobile. Ok. Questa è la pagina Prova Filtri. Come vedi prima ci sono i prodotti. E poi c'è questo. E i filtri non vengono visualizzati in questo modo. Quindi come possiamo fare per ottenere i filtri? Ci basterà tornare sulla nostra pagina. Andare quindi su Modifica Pagina. E inserire nella colonna dove abbiamo inserito i filtri. Esattamente qua. Guarda. Vado qua. Faccio Aggiungi nuovo blocco. Metto Modal. Ok. YTH Mobile Filters Modal Opener. Clicco qua e lo porto pure sopra. Ok. Quindi ho inserito il pulsante con i filtri. Che non verrà visualizzato da desktop. Ma verrà visualizzato nella parte mobile. Salviamo. Quindi aggiorniamo. Andiamo a guardare la nostra pagina. Ok. Eccoci qua. Come vedi il filtro. Il pulsante con il filtro non viene visualizzato nella sidebar. Ma se io vado nella versione mobile. Vado di nuovo su Ispeziona. Vado su Mobile. Ecco qui. Ho riprodotto la stessa cosa che avevamo visto all'inizio con una pagina standard di WooCommerce. Ovvero ci sono i prodotti. C'è quello che abbiamo inserito all'interno del layout. Quindi ho anche questa sidebar che è andata in basso. Ma i filtri sono qua sopra. Quindi se io clicco si apre la modale. E posso filtrare come voglio. Mostra i risultati. Mi si ricarica la pagina. E io ho i prodotti già filtrati qua. E quindi se io voglio poi filtrare di nuovo. Posso cliccare e andarmi a muovere all'interno dei filtri come più preferisco. Devo mostrarti però un'altra cosa. Quindi torniamo di nuovo sulla modifica della pagina. Perché ti ho fatto vedere in che maniera si inseriscono i filtri. Ma se io volessi resettare questi filtri. Cioè se volessi portare a una situazione iniziale. Senza dover eliminare i filtri. Quindi andare a spuntare di nuovo i filtri che avevo inserito. Mi basterà semplicemente andare qui. Inserire un nuovo blocco. E mettiamo reset. Eccolo qua. YTH reset filter button. Clicco. Ed è inserito. Lo porto di nuovo sopra. Così ce l'ho qua sopra insieme all'altro. Vado a aggiornare la pagina. E andiamo a guardare la nostra pagina. A questo punto non si vedono i pulsanti perché sono le versioni desktop. Ma andiamo di nuovo su ispeziona. Andiamo da mobile. Ed eccolo qua. I filtri sono qui. E quindi posso filtrare i prodotti come meglio credo. Il momento in cui ho filtrato i prodotti. Comparirà anche il pulsante resetta filtri. Quindi se volessi riportarmi a una situazione precedente. Ovvero senza filtri. Mi basterà cliccare qua. E vedrò la pagina senza filtri. Per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao. 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 Grazie a tutti.